ciao a tutti ragazzi, ahia 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 il cactus fa male, no questo l'avresti però nel video siamo qui in compagnia sempre di tyler ragazzi qui la luna guarda vieni qua tyler vieni qua vieni qua guarda la luna bello ti spingo giù e niente siamo qui ci penso io c'ho l'accetta ma no a mani nuda è più realista no si casca per terra si ok ok no grande caduto il sapling fuori vaffanculo vedi perchè ti dico che serve per te? ho capito ma ce l'hai il piccone fallo pure te ma che tu sempre io sono il suo schiavo eh non va bene qui eh questo è l'isola di eagle non è che tu e gli ospiti chiedi di fare le cose a casa tu ehm te stai facendo... che stai facendo? niente hai piantato ma questo è il cacao quanti ce ne stanno scusa? è uno solo... più ne esce più ce ne stanno ehm stai a far casca di sotto c'è te lo spacchi quando fai capire che è pronto? ma lo domanda nero tipo questo? si tipo questo famo lo spacca a me ah spero spero allora questo è pronto questo a destra è metà pronto e quello a sinistra è appena uscito no famo rimettere no rimetti eh si ma è finito ma le fave di cacao se mangiano? eh ti fai la zuppa di pane ho messo pure dietro eh dai che ci faccio? se mangia? eh puoi dare i biscotti di cibo non me lo posso mangiare così? no i biscotti da voglia a te i biscotti qua c'ho bisogno di carote da mangiare c'ho bisogno ah qua ci stanno delle carote posso mangiarle? una si l'altra no sa qua che pianto? ah però non ci va l'acqua no dobbiamo allargà se mi fai il pietrisco allargiamo stai a mangiare brutta merda eh? tu mangi le carote ti mangi in realtà si ma se ti vuoi chiudere sto buco mi casca tutto il pietrisco fuori ah è buono poi chiude va perchè ormai sono sceso eh aspetta devi usare le scavili non muo fa chiudere non muo fa chiudere non muo fa chiudere mi è venuto shift nell'acqua ma non nella cascata però eh aspetta ma sotto l'acqua muo fa mettere oh cazzo no no sei magnifico morirò morirò no vabbè ma aspetta no no aspetta stai morendo no eh son morto ma sei morto eh si perchè che devo fa aspetta arriva l'acqua ah eh si arriva arriva ma sei morto eh son morto che si richiudi il buco che se no rimoro mi vedavo l'acqua però non c'era il peccone addosso che furbo ma voi ti cazzo unpa via sto pietrisco qua dobbiamo allargare un po' eh ecco va nel buco così vai vedi ma ma gioco se brucia ma lo sto prendendo io o se brucia lo prendi te ok prima di un attimo prima di vai dammi il te disco che c'hai è giusto un po' sta cosa ok togli ti lavori in corso ok allora qua ma se ci metto un altro pezzo di legno sopra ci posso mettere altro cacao? ma non serve eh? si ma non serve no? ce l'abbiamo vai prova così eh mo va dentro dentro dove? eh qua dentro vai se va là non fa niente no vai prova vai prova no no è uscito tutto perché? stai facendo un casino perché è uscito tutto? che stai facendo? che stai facendo? no non capisco perché si è hai sfracellato la farm vabbè no? ho capito ho capito eh mo ha sistemi detti? vedi perché sei inutile? ha sistemi detti? piccolo igolino piccolino vai dov'è il piccone qua? ma perché hai chiuso? ma te hai chiuso? nooo cos'hai fatto? io sei stato via e mo? e mo ok guarda guarda che c'ho qui bra** va prendilo prendilo guarda il pietrisco che c'avevo prendi tutto ahahahah ecco perché perché te hai chiuso questo qua è stato aperto ok mettiii allora faccio io faccio io perché ne voglio creare una mente ma che va bene guarda però magari facciamo questo questo la chiudiamo comunque è stata colpa tua che hai rimesso il blocco di pietra lì sotto e se hai spuntanato tutto guarda che sistema che t'ho fatto, tiè piano piano abbiamo fatto tutto cosa hai pensato che sei caduto? nulla perché non si perde nulla qua eh si è un po' una suzzata è un po' una cafonata senti mi sono un attimo allargato qua ma perché non fanno, perché ci hai messo le carote qui così non cresce l'erba, la zucca e l'anguria no? ma dove? qui a sinistra è lo spazio dove sei tu no questa è l'anguria e cresce qua dove sto io no questa qua quella a destra è l'anguria questa qua cresce qua ma non cresce in cazzo e dagli tempo e barbabine a che serve? sono anguria timide queste qua ti caccia dalla mia isola ti posso cacciare lo sanno guarda una farm mi dammi tempo ma che va bene quella dai oh guarda la roba che c'è se ci abbiamo guarda come si fa va io sono il raccoglitore autorizzato di cacao che fai? perché consumi la terra? non la sto consumando oh e ora tutti i fiorellini cadranno sotto e quando crescono ci allarghiamo no che sai perché è triste e fatelo vaffa culo ma se ci stai tu e se vuoi mi stacco eh no no che? è cresciuta l'erba oh l'erba è cresciuta senti dobbiamo allargarci ma ci allunghiamo da qua? i lati ma qua soprattutto dove ci stanno gli alberi pure si guarda ti vedo con i piedi in aria io volo io sono vegeta non lo vedi? sei pericolante ma guarda affacciate guarda non so io affacciati e guarda sotto no no hai visto vado eh? vuoi spingermi no guarda oh mi metto da qua guarda hai visto? a lava per terra l'ho visto l'ho visto ma sei proprio non vedi come balla nando non vedi come balla nando allarga la farm ancora oh cazzo io non c'ho spiedilisco e sto rompendo il piccone sai che devo aggiustare qua sotto oh oh ma da fada ma da fada ci prendiamo la accetta da me l'accetta dammi fai il pietrisco in modo campotte non sai come fare da mi sta certo no perché insomma ma non lo sa no che è che sbaglio da me l'accetta e guarda no spiega se mi dai oh che palle ti è ragazzi ma tu sei un nabbo soldaggio lo bagniamo o non lo bagniamo dall'isola ah così sali guarda ora hai tolto qua e non posso salire eh vabbè ma serve ci arrivi arrivi allora senti io ti ho invitato ma metti un po' a posto qui eh ci sta un casino allora a casa tua devo mettere a posto io eh certo ma non mi permetterei mai dai piantiamo sto albero non mi chiediamo alberi a caso perchè la non va bene fa già questo aspetta eh prima che quello cresce ma ne volevo fare un altro grande un altro grande così eh eh se ci lasciano i sa poi ma perché quelli che cadono nell'acqua dopo un po' scompaiono oh è cresciuto lo prendo io non è lo ripianti no quello non ci sta già ah ah la pianta è ah no ah figo possiamo fare altri semi però ok ne faccio un'altra poi poi facciamo una farmaca grande c'è ahia ma che ho detto ah allora l'acqua ci arriva qui no eh no dove? all'albero là no all'angolo qui all'angolo si però si ce lo posso mettere qua il seme zappame? no qua no ma dove sei tu? qui qui ci metto il seme qui cresce qui il melone e a questa qua gli mettevo un altro pezzo di terra dietro così cresce dietro vabbè sbaglio ho la zappa stallate prende pure un blocco di terra fatto allora dobbiamo fare quanta cosa dobbiamo fare? la terra questa qua non serve che tutta la base di pietrisco poi sopra ci mettiamo la terra come stiamo facendo adesso ok capito? così abbiamo l'erba anche certo non sa la fumiamo poi eeeeeee bravo così sa casomai scaviamo quando troveremo il pietrisco sotto sappiamo che dobbiamo fermarci ok legno di wercia scura dammi la terra dove la terra? non c'è niente è quella che sta dentro io non c'ho niente finita male così la prendo qua dai pietrisco oh che palle tiè trascinano dall'inventare non buttarle a uno a uno con l'accum tiè 40 all'antento bravo ora si che si lavora fermo fermo non te muove il cactus il cactus nooo hai rotto il cactus eh lo so e non solo ma hai proprio rotto il cactus beh lo so oh mi fa a salire addio mondo crudeli certo sto gioco ho giocato come se dovrebbe giocare vabbè se mi ha pure non è rotto il cactus da qua no l'ho ripiantato io ce n'ho uno io addosso aspetta che adesso ti rompo il cactus no non lo so e devo togliere la sabbia e no sabbia è legno in questo eh ma le salda da mano ma che fai ma no ma no ma no andiamo a fare a finire sotto ma la terra l'hai presa te sì credo aspetta oh vabbè sono in un qua che è successo mi serve perché tu chiedrisco qua senti le manuzze ovunque non è colpa mia ma la cosa che scusa una cosa te quando vai addosso a un blocco questo qua per esempio guarda te lo fai in automatico ah eh devi toglierlo dall'impostazione sarebbe autosalta l'auto eh che cazzo mi da un fastidio dove sta comando eh comando ragazzi stiamo no non è comando beh qual è? qual è? qual è? aspetta salto automatico o no? ok fatto salto automatico salto automatico vedi che raccomando oh ok mo' è meglio coglionire dietro di te no hai fatto casca un pezzo di terra ma dove? e io ho visto che è cascato un pezzo di terra ma l'ho preso io no ho visto vola è terra volante e carote da che lo capisci se sto pronto o no? tu c'hai la stessa texture pacnia eh? ora vedi che c'hanno un po' di giallo però è giallo e non è arancione quando è arancione? io vedo arancione no è giallo è giallo è arancione secco va deve essere arancione e acceso va bene non togliere questi due blocchi di erba qui per nessuna ragione al mondo agli ordini marescià perché ora tolgo questi di sotto immaginavo ah ma io ho un cactus addosso posalo 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 no tanto il cactus non serve serve più la canna d'azucco perché non serve? perché il cactus si rompe vedo tu rompi il cactus no? è una canna d'azucco serve perché si chiama canna non l'ho capito da zucchero però non l'ho capito mi dispiace continua a non capire come si chiama quello che è andato in tribunale? l'aspetto allungi allungi eh ahahah annaggia oh ecco tipo lui vabbè ragazzi io direi cioè guarda guarda salve io ho messo qui non è cresciuto di un millimetro chi è cresciuto di un millimetro? non mi è cresciuto ma perché sei piccolo dai eh magari oh me la colando eh ma non mi faccati fa cazzate eh e la smetti? guarda che ho perso un pezzettino d'erba no si eccolo qua barbarbietole ah io metto la barbarbietola no ma c'è troppo cacao non serve tutto sto cacao a meno che non vuoi fare tanti biscotti eh certo tu sarai la mia cuoca la mia pasticcera voglio andare a scuola domani voglio restare a casa a fare i biscotti comunque io ancora non ho non ho salutato qua eh no io ho pensato che eravamo fuori onda fuori onda allora guarda andro su striscia le notizie facciamo così allora ragazzi noi ci vediamo in una prossima puntata ci mancherete qui piano 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 qua stiamo crescendo se avete qualche consiglio da darci non serve perché abbiamo Tyler che è il numero uno domani ti vedete che la mente e le riposite da io ciao belli ciao belli pace